Ehi la ciurma! Io sono Mezzetess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Ho gestito il combattimento con l'accappamento ma Catelyn me l'hanno tirato giù con una carica abbastanza in fretta tipo due turni prima della fine. Erano tutti molto affamati per cui probabilmente anche dato da quello. Quindi adesso dobbiamo occuparci di curare il poverino. Allora quella che aveva cura al più alto livello era Roskva mi pare. Heal, sì perché lei dovrebbe avere più che altro Medicina al massimo. Lei ce l'ha a quattro per cui va benissimo, curiamo lui. Tre medicine, non è grave. Pazzerà Katelyn, passerà. Eeeh tutto a posto. Nefi ha ancora gli slot. Perché? Cosa faceva Nefi allo scorso giro? Preservava ma non abbiamo più carne? No, ne abbiamo bene. Preserva e poi non abbiamo più niente da preservare. Ah, è per quello. Eeeh scout allora. Direi, visto che abbiamo consumato un po' più di carne nello scorso giro perché abbiamo festeggiato eccetera eccetera per cui. Carne a tutti. Ok. C'è una carcassa di un topo. Ah ok è Biggool il gatto che ci ha portato il topo. Sta cattonando parecchi roditori che stanno cercando di mangiarci le razioni. Sei felice che l'abbiamo mantenuto? Sì, sono felice sì. Ok, lui è in foro. Tutti hanno mangiato. Tutti sono ben nutriti. E hanno trovato qualcosa di interessante. Abbiamo quindici medicine. Ok. E più otto di carne. Che sono quelle otto che avevamo un po' sprecato per il banchetto? Scemo prosto. Allora vediamo un po', ne ho qua che dovrebbe essere di strada. quattordici di legno. Qui andiamo qua. Che teoricamente dovremmo trovare il druido? Maledizione. Che cosa? Ho calpestato un serpente. Mi ha morso. Per vedere. Ah, è male. Hai bisogno di un trattamento la prossima volta che ci accampiamo. Ok, è ferito. Ah no, well fed. Ok. E al postcastleifer allora prenderei Aedes che è abbastanza in gamba. Ok. Sperando di non dover combattere niente. Qua in realtà dovremmo trovare un tizio che è vecchio mille anni. E' buon. E' semplicemente a posto. Allora. Tendo una luce qua perché. Allora. Cosa abbiamo con i dintorni? Ah, guarda le erbe dove si nascondono. Ops. S'è rotta. Ah, c'è un po' di gente qua all'intorno. Vediamo cosa c'è qua. nulla. Ah, non c'è un ponticello. Cosa guarda questo ponticello? Ah, qua sotto dove eravamo prima. Chi è questa gente qua? Sono due ragazzi di quindici anni. Ah, uno di quindici anni e uno molto più giovane. e sono inginocchiati. Ah, uno, cioè il più vecchio, sta insegnando al più giovane come prendere i pesci. Ma è solo teorica perché non ci sono di su quel pesci qua. Wow, non ho mai visto della gente come voi. Venite da Nortumbria e da Stratclide? Ehm, siamo vichinghi, ma calmati, non siamo qui per creare casino. Vai Lugai, corri da tuo padre. Paura. Sono chill e hanno sentito storie dei vichinghi. Ma non penso che fossero vere. Penso che fossero dei demoni o qualcosa del genere. È vero che le vostre navi assomigliano a dei draghi? Sì, è vero, fa parte della nostra religione. Ah, eh sì, effettivamente non siete cristiani. Ho detto che voi adorate degli antichi dei violenti e che per... combattono contro la luce di Cristo. È vero, non siamo cristiani. Se non ti dispiace che io chiedo, cosa state cercando qui? Ehm, stiamo cercando un'eremita. Ehm, conosco l'uomo di cui state parlando. Vi porterò da lui se volete. Penso che sarà molto interessato incontrarvi. Venite da questa parte. Ah, quindi abbiamo evitato tutto il casino parlando al ragazzino. Vedete qua cosa c'è? C'è una strada che sale su. Si clippa tutto malissimo. Questa è questa montagna. E' un bel posto dove essere l'eremita questo. è sufficiente. Oh! Vedete, vedete come le stoni sono allineate con le montanetops in a distanza. E' un bel posto. Ehm, spezziamo le iscrizioni. Ci sono... Riconosciamo alcuni simboli. Abbiamo già visti. Alcune rune sembrano simili a quelle della nostra... Ehm... No, sense hard. No. Mi sa che non abbiamo la possibilità di... di tradurlo. Ehm... Andiamo. Perché mi sa che... Non riusciremo a... Capire di chi si tratta. Allora torniamo giù sotto. E' particolare come ha fatto la gestione della camera comunque che gestisce più o meno correttamente questo tipo di spostamento. Nonostante sia dall'alto. C'è un collider a camera. Quadrato. Cioè, non è un collider, però insomma... E' un rettangolo, tra l'altro. Non è un quadrato, per cui... L'aria nella camera è sorprendentemente calda e asciutta. Ma... Chiunque... Stia... Qualsiasi essere sopranaturale che... C'era sabbia della circolazione dell'aria. Ehm... Non ha impedito che ci fosse comunque un... sensazione di chiuso. Mirdin. Ho portato dei visitatori. Loro non sono cristiani. Oh giovane. La tua gentilezza ci farà male a entrambi. Non avrei voluto vivere in una grotta se fosse stato per intrattenere degli ospiti. Sì. Si fermerà quando ti ha visto... Vieni. C'è qualcosa che possiamo... Noi arriviamo al capo, saccheggiamo assolutamente tutta la sua... La cacca del druido per far crescere i funghi. Ok. Quello è sempre furto. Il nuovo che nella stanza centrale... Ehm... Sembra esattamente quello che te lo immaginavi. Una barba lunga e grigia... Arriva quasi al... Suo stomaco... E... Ehm... Ti mescola... Ehm... Con un vestito... Roboro. Ti osservano con... Chiarezza e ti fa sentire... Piccolo. Qualcosa potrebbe effettivamente essere... Cioè... Potresti effettivamente credere che questo uomo sia di un migliaio di anni. Come pensavo... I tuoi ospiti portano il ferro di una legione in casa mia. Hai pensato alla salvezza di un vecchio uomo, Chilean? Ragazzo folle. Sono vichinghi. Loro adorano i vecchi dei. Sì. E se ti avessi insegnato di più dei vecchi dei, sapresti che non c'è... Ehm... La garanzia di... Buh... No, scusa se chi non c'è... Ehm... Bene, allora vichinghi. Ditemi chi siete. Il mio nome è Mazzetes Megimbiarnarson. Ehm... Benvenuto nel mio antro, Mazzetes Megimbiarnarson. Se avessi aspettato dei dignitari stranieri, avrei organizzato ai servitori... Avrei chiesto ai servitori di pulire lo spazio. Mi chiamo Myrddin Emrys. E sei venuto qui a parlare con l'ultimo dei druidi? Bella, allora l'hai trovata. Ehm... Vi cerco da parte di Caustantin, dei Pitti. Ehm... Vorrei invitarvi a Pert. Re questo e re quello. Questi re. Vengono e vanno. Non gli devo nessun... Nessuna cosa. La mia... Sola lealtà e alla fede. E' vero che siete vecchi o migliaia di anni? Vi hanno detto questo? Eh... Mille anni è un tempo davvero molto lungo. Mi sono fermato di contarli molto tempo fa. Quest'uomo non ha un... Mille anni. Più di quanto il Drecchi sia il serpente di Midgard. Parlatemi della vostra fede. No. No, non lo parò. Cristiani o no, siete stranieri per me. Proviamo Caustico Diplomacy. E se io parlassi qualcosa... Vi raccontassi qualcosa di mia fede? Vi rispondeste con il favore? Mh... Va bene, accetto. Ehm... Vedo che collezioni... Mistletoe. Dovrebbe essere agrifoglio. La pianta ha un ruolo importante nella storia di Baldr, figlio di Odino e di Frigg. Quando Baldr nacque, Frigg aveva fatto tutte le cose nel mondo, viventi e no. Ehm... Giurando... Che non avrebbero mai... Non avrebbero mai fatto male a suo figlio. Ma lei non aveva fatto giurare agrifoglio. Perché era troppo giovane per un... Una... Un giuramento. Mh... Interessante. Giovane. Un giorno tutti gli dei si riunirono. Decisero di testare il giuramento, lanciando tutto quello che potevano a Baldr. E han visto che nulla poteva fargli del male. Ma su fratello Loki, sempre a tramare, fece una freccia dall'agrifoglio. E convinse il dio cieco Odr, che era anche fratello di loro entrambi, a colpire Baldr con essa. La freccia... Uccise Baldr. Nooo... Farei la seconda. Sono sicuro che puoi immaginare come finisca la storia. Abbiamo delle storie, tra le nostre, che fanno ecco alle vostre. In effetti ho sentito di molte variazioni di questa stessa storia. Magari l'inevitabilità della tragedia, anche tra gli dei, rende più facile per noi, meri mortali, di accettare i nostri fatti crudeli. Il tuo turno. Beh, restiamo allora sull'oggetto dell'agrifoglio. Poche cose sono più sacre a noi di quella pianta. E' estremamente rara da queste parti. Ma grazie Cillian conosco un albero resistente dove cresce intorno. Abbiamo un rituale per raccogliere l'agrifoglio. Il sesto giorno di luna facciamo un sacrificio agli alberi. E' un banchetto sotto di lui. E' un banchetto che potrebbe andare bene per un re. Poi portiamo due torri bianchi con le corne legate per essere sacrificati. Ma questi dei sono... Cioè questi giorni sono passati da molto. Salgo sull'albero. Beh, lo fa Cillian ormai questi giorni. e taglio l'agrifoglio con un falcetto. Che... Poi lo prendo in un mantello bianco. Eh, dovrebbe essere un falcetto di oro, ma facciamo quello che abbiamo. Ehm... 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 Che cosa posso fare per convincerti a venire con me? No, non c'è. Se rispetterai la mia volontà, eh... dirai al tuo re che sono morto da molto. Diggi che tutto quello che rimane di me è una vecchia tomba. Piena di licheni. E Cillian si allontana. Probiamo a parlare con Cillian. Magari Cillian sa come convincerlo. Ehm... Avevo parlato un sacco. Io ho soprattutto la camera sbagliata. Allora... Quindi andate in questo modo. Ehm... Pensavo che... Uemir Din vi... incontraste un po' di più. Ehm... Sempre che parla... del fatto che i cristiani opprimano... le vecchie... cose. Vuoi di parlare? Hai qualche modo per convincere... l'anziano tizio? Non posso convincere Mir Din di nulla. E' un uomo di mille anni. Probabilmente ha già... Ehm... preso questa decisione... centinaia di anni fa. Ma posso cambiarlo? Sembra che avessi un interesse... eh... in organizzare questo. Ascolta... devo prendere delle... lucciole... per il rituale dell'uomo. Se vieni con me... eh... possiamo parlare. proviamo a vedere cosa ci dice... proviamo a vedere cosa ci dice... proviamo a vedere cosa ci dice... ah no... il ragazzino di prima... ok... Ah... Spero che quelle pesti... non dicano i loro genitori... che ci hanno visto insieme... perché no? non sono stato completamente onesto... per la mia famiglia... a proposito di Merlino. So che... ehm... loro sospettano che visiti il vecchio uomo... ma... provo a nasconderglielo. E ogni tanto... salta fuori che c'è un... con una grande discussione. devi... ehm... capire... questo non è un villaggio... è una fattoria. Tutti... sono... parenti... quando vivi in un posto come questo... è difficile allontanarti... dal tracciato. Perché i tuoi genitori odiano così tanto Miradin? I miei genitori sono morti... sono stati uccisi... non so più da Fai... da... molti anni fa. Così Nodaplas e i suoi fratelli li hanno vendicati... e... hanno preso... lui e Mael Muire... e mi hanno preso... e mi hanno trattato come un fratello. Quella... faida è ancora in corso... e... vecchia come il peccato... e non finirà mai finché nessun... finché tutti non saranno morti. Così è come funziona... nelle... fraterie. e... dobbiamo prendere una cosa... e quindi... perché questo include Merlino? Merlino... si beh... è la figura di Merlino... ma Miradin... niente... non riusciamo a prenderla... Merlin... è qui da prima di noi... e quel che so... ha sempre vissuto in quella piccola caverna... e il problema è che... tutti qui... sono cristiani... in modo fervente... loro non capiscono Merlin... ma... lui li spaventa... dovresti sentire le cose che dicono di lui... che... è... in combutta con il demonio... che prende i bambini di notte... e li sacrifica i poteri oscuri... nessun bambino è mai andato perso dal villaggio... stanno solo cercando di... di spaventare... quelli meno saggi... per... stare all'interno di lui... ho sempre voluto dir loro di... smetterla di... trattarlo così... che è solo un... vecchio uomo gentile... che vuole essere lasciato solo... ma non vogliono sentirmi... quindi avevamo... queste... discussioni e... lo giuro... certe volte penso... penso che... se sapessero che sono stato... che sono... che sono... apprendista da... Mirdin... mi ucciderebbero... senza... no... non dub... ma... gli altri... si... proviamo a catturare la farfalla... in questo giro... ok... ce l'abbiamo fatta... verrò... sai... se... si Mirdin... verrà con te... ho... imparato così tanto da lui... ma ho molto ancora da... lui ha ancora molto da insegnarmi... così tanta saggezza... le storie dei vecchi dèi... la conoscenza... del will... non so... i suoi rituali... vi parlerò ancora... eh... non gli ho mai detto... come... è poco sicuro... come mi sento poco sicuro... vicino a mia famiglia... se vede quanto questo... importi per me... probabilmente verrà con te... per favore... porta questi... a Mirdin... nella... grotta... eh... vi incontrerò... andrò... presso le... le pietre che ci sono su... in cima alla collina... eh... andrò e rassicurerò... Daub e... ma il... muire... grazie... ci vediamo sulla sommità... non ci vorrà molto... va bene... ma detto questo... direi che per questo episodio possiamo salutarci... qui... eh... è durato abbastanza... e nel prossimo... scopriremo... che ne sarà di Mirdin... e vi invito... come al solito... lasciate un mi piace... un commento qua sotto... iscrivetevi... ci vediamo nel prossimo episodio... ciao a tutti... e buona giornata...